Buon gore ragazzi e ragazze. Allora, mi sono riposato? Sì, mi sono riposato ieri notte e poi alla fine avete visto nel vlog, nell'ultimo vlog che vi ho lasciato, appena sono tornato ho editato il video e poi sono andato a letto. In realtà mi ero anche addormentato mentre editavo, meno male che mi ero risvegliato perché così ho fatto in tempo e ho dormito abbastanza bene, sì, abbastanza bene. Niente, benvenuti in questo nuovissimo vlog che andremo, se il tempo ce lo permetterà, andremo un attimino in centro a vedere un nuovo negozio. Ve ne ho già parlato un po' di tempo fa, però non in un vlog, quindi quasi nessuno lo sa praticamente cos'è successo. No, ve lo dico dopo, andiamo a prendere il caffè. Perché mi ostino con quella nera che non si vede nulla? Comunque, dai, seri, oggi voglio andare a fare un giro in un negozio di un brand di cui non vi ho mai parlato perché effettivamente non ho mai comprato nulla E in realtà, io, ignorante in materia, pensavo di non poter comprare nemmeno nulla perché è un brand, diciamo, non molto mainstream Anche se in questi ultimi mesi, grazie a Ticketetokete e tutto quanto ha preso il via, sta diventando abbastanza popolare, soprattutto all'estero Però è un brand che è un po' avvolto nel mistero, ok? Perché il sito online di questo brand non tiene conto dei prezzi, nel senso non scrivano i prezzi delle loro cose Non possiamo comprare online e in tutto il mondo ci sono, a quanto ho letto, pochissimi negozi di questo brand Tipo 13, 16 massimo, ora non so bene il numero preciso, mi informerò Fortunatamente in Italia l'unico negozio che esiste, fisico, ovviamente, è qua a Milano E siccome è letteralmente un mese che ogni sera, io giuro, vado sul sito di loro per vedere qualche borsa Perché mi sono fissato con una borsa in particolare Che doveva essere in realtà l'autoregalo di compleanno mio Ma siccome, ragazzi, metto le mani avanti subito Siccome, numero uno, non so quanto costa quell'eventuale borsa Non so se riusciremo ad entrare perché so che comunque c'è quasi sempre la fila Dato che il negozio dice che è piccolissimo Dice che è solo questo in tutta Italia E tra l'altro in Europa dovrebbe esserci ovviamente il primo, quello di Parigi e poi a Londra Non so se ce ne sono altri Quindi a regola ci dovrebbe essere un po' la fila E vedendo tutti i video, perché io mi sono visto video su video su video di unboxing Prima di autoconvincermi di volere quella borsa Perché ho valutato i pro e ho valutato i contro Ci sono persone che, tipo americane o anche inglese Che sono venute addirittura qui in Italia Per prendersi quella o quell'altra borsa di questo brand Perché con il tax free, non ho capito bene Insomma ci riprendono l'IVA, ovviamente E hanno detto che c'è stato già il rincaro dell'anno Ora, io ho fatto due calcoline Ho detto io devo aspettare fino a giugno per il mio compleanno Se da qui a giugno c'è un altro rincaro Lo piglio nel Baugigi Perché spendere di più per comprare una borsa Che già so che voglio O almeno voglio andarla a vedere dal vivo O almeno voglio andare a sentire quanto costa Perché può costare, boh, 900 euro Come ne può costare 10.000 Io non so Perché questo brand, comunque Vabbè, ve lo dico Si tratta di Goyard È un brand rinomato, ok? E molti lo paragonano addirittura ad Hermès Quindi, sapendo i prezzi di Hermès Non lo so Io penso, facendo due ricerche Perché non è facile trovare le informazioni su di loro Facendo due ricerche Io penso che come prezzi sia tipo Louis Vuitton, ok? Però, andiamo alla ricerca Andiamo a scoprire la verità Anche perché tutti quelli che comprano le cose da Goyard Sono super, non lo so Non parlano, non dicono i prezzi Non capisco perché Ora, ok Questo fatto di all'ore di mistero Che aiuta anche il brand Un po' ad essere più desiderabile Infatti, io sto impazzendo Perché sono schiavo del consumismo Però, se te ti compri una borsa E fai l'unboxing Dimmi quanto costa Soprattutto se sai Che i prezzi di questo brand Non esistono Nel senso che Nessuno lo sa Ma se è tronzo Quindi oggi andremo in negozio O almeno ci passeremo davanti Per vedere se c'è fila Ciao Se non c'è nessuno Come nel caso di Cartier Allora ci possiamo entrare A dare un'occhiata So che molto probabilmente Non potrò fare dei video Dentro il negozio Perché ho visto L'unboxing di una ragazza Che diceva Che gli hanno proprio detto Non si può registrare Ma qualche foto A regola Potremmo Spero di ricordarmi tutto Al massimo mi scrivo i prezzi Se li trovo Così da qualche parte Boh Vediamo insomma È tutto un Vediamo quello che succede Intanto finisco il caffè Mi sistemo Faccio pipì E poi partiamo Siamo pronti Allora ragazzi Andiamo alla scoperta Di Goyard Andiamo innanzitutto In Monte Napoleone Che tanto è lì In una traversina Guardiamo quanta gente c'è Se c'è poca gente C'ho da fare Comunque poca fila Così Entriamo A dare un'occhiata Chiediamo Del modello di borsa Che voglio Guardiamo Se i prezzi Sono sostenibili Mi sono dato Un range Massimo E Se mi piace Se toccandola dal vivo Per la prima volta Comunque È soddisfacente E il prezzo È ragionevole Secondo i miei standard Possiamo comprarla Se no Ce ne torniamo a casa Questa roba Che Devi andare Per forza In negozio Per sapere i prezzi Mi mette Un misto ansia Un misto ansia Eccitazione In realtà Perché Non so come prenderlo Però Andiamo Ci siamo Bisogna andare In via Gesù Quindi È una traversa Quella dopo Hermes Di Monte Napoleone Andiamo Speriamo Anche perché L'orario Dovrebbe essere Abbastanza presto Quindi ci dovrebbe essere Meno gente In fila Vediamo Vediamo Cammina 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 Ma Gesù È qua È qui Il mio negozietto E c'è anche la fila Ci sarebbero Cinque persone davanti Ora si guarda Vediamo Mezz'ora di tempo Se si muove bene Se no Ciao Ok in due Sono già entrati E ora c'è Il bodyguard Penso Non sono fuori Che sta chiedendo Per non perdere tempo Perché se non c'è Quello che vuoi È inutile che fai la fila Ok Ci siamo Sono il prossimo Raga Ci siamo Fatto tutto Torniamo a casa ora Sono super super contento Ho indagato un po' E ho comprato ovviamente La mia prima borsettina E ora andiamo a casa Vi faccio Vi racconto tutto Quello che so Tutto quello che ho scoperto Vi faccio l'unboxing Vi faccio Anche sapere le mie considerazioni Prima una tappina Dosi Starbucks Cristiano Sì Grazie Grazie Bye bye Ditemi Se uno non deve bestemmiare Ditemelo Ditemelo Ai ai Sei piani Perché lasciano queste aperte Siete scemi Mi sono ripreso ragazzi Siamo qui nel mio studio Perché adesso Facciamo una breve lezione di storia Di Goyard O meglio Vi dico tutto quello che c'è da sapere Su questo brand di lusso Che da molti è considerato Il brand Diciamo Dei veri ricchi Dei nobili Insomma Un brand di nicchia Perché è poco conosciuto Ci sono poche boutique In tutto il mondo E le persone appunto Non sanno Dell'esistenza Di questo brand Perché La stessa Goyard Non ha mai fatto pubblicità Non ha mai fatto sponsorizzazione Non ha mai partecipato A delle sfilate Non ha mai pagato VIP Celebrities Per far vedere Le proprie cose E è rimasta un po' Tipo Diciamo Un alone di mistero Rispetto a questo brand Come avevo detto appunto Anche stamani Che non sappiamo i prezzi Ok Infatti Nei rivenditori su internet Le cose di seconda mano Molti prezzi Sono alle stelle Perché giocano appunto Sul fatto Che le persone Che magari vogliono Una borsa O un determinato Portacarte O un determinato Item Di questa casa di moda Non conoscono i prezzi Perché non sono mai andati In boutique A chiederli Quindi Attenzione A comprare di seconda mano Bisogna Saperne un pochino E qua ci sono io Stavo dicendo Goyard Non nasce Come Goyard Perché Addirittura Nel 1792 Nacque Questo negozio Ma si chiamava Maison Martin In quanto fu fondata Da Pierre François Martin Diventa Goyard Quando François Goyard Inizia a fare L'apprendistato Nel negozio Maison Martin Nel 1845 Quando poi Pierre François Martin Muore Goyard Prende le redini Di tutto Cambia il nome In Goyard E Il negozio A Parigi Che fu il primo Appunto Diventerà poi Quello che è diventato In questi giorni Aprendo Negli ultimi 50 anni 60 anni Alcune boutique In giro per il mondo Ma ce ne sono Pochissime È per quello Che tipo Qui a Milano C'è sempre la fila Ok È un brand Super di lusso Per la maggior parte Le persone Che vengono a Milano E sono in fila Per andare da Goyard Sono persone straniere Tipo Oggi Le cinque persone Che avevo davanti a me Due erano asiatiche Due parlavano Tipo inglese Ma non so Probabilmente Erano del nord Europa E uno Era italiano E poi c'ero io Goyard O Goyard O Goyard Come si dice Al Livorno È un brand Come stavo dicendo Che fino a questo momento È passato Quasi inosservato E forse Doveva continuare Ad essere così Per continuare Appunto Tutto l'alone Di mistero Che c'è dietro Questa marca E quindi Aumentare il desiderio Nelle persone Nel volere Qualche accessorio Qualche borsa Di questo brand La particolarità Di Goyard È che Il suo simbolo È praticamente La Y Che Sta appunto Nel mezzo Quindi Non usa L'iniziale Come abbiamo visto Negli altri brand Tipo La G di Gucci LV di Louis Vuitton E via discorrendo Loro appunto Nel loro canvas Praticamente Creano Il logo La Y Con vari puntini Inizialmente Erano specializzati Appunto In bauli In valigie da viaggio E tutto quanto Ma Col passare del tempo Hanno iniziato a fare Anche borse Zainetti Portafoglio Portacarte Cinture Ci sono anche Gli accessori Per i cani Tipo I collarini Che li ho visti Oggi Super carini E Ragazzi Ragazzi Solo negli ultimi Anni Diciamo Da quando c'è TikTok È diventata Un po' più popolare Questa marca Verso Le persone comuni Grazie appunto Ai video Che sono diventati Virali Delle ragazze E dei ragazzi Che fanno Gli unboxing Di questo negozio Secondo me Una delle particolarità Anche Di questo brand Appunto Quasi nessuno Lo conosceva Prima di questo video E soprattutto Ora andiamo a vedere Vi faccio vedere I materiali Non sembrano A prima vista Super ricercati In realtà Il canvas Che usano Loro È un canvas Molto ricercato Perché è fatto Con tessuto Con un procedimento Segreto Che è un misto Tra cana Pallino E cotone E soprattutto Questo brand È affiancato Molto spesso Al Louis Vuitton Sia perché Tutte e due Sono francesi Sia perché Le borse Si assomigliano Non so Chi ha copiato Chi Rispetto Ad alcuni Modelli di borse Però molte persone Preferiscono Oggigiorno Goya Rispetto a Louis Vuitton Appunto perché Louis Vuitton È molto Più usato È molto più comprato È molto più Mainstream E quindi Vanno a ricercare Le persone Cose Che vengano usate Da una nicchia Un po' più ristretta Di persone Allora Ragazzi Arriviamo Adesso Al nostro Unboxing Ma prima Come ho fatto A conoscere Goyard Praticamente Io lo conoscevo Già da un po' Di anni Però Non gli avevo Dato molto Spago Molta Non ero molto Interessato Perché sapete Che io Diciamo che Ero un po' Truzzino Sono ancora Truzzino E quindi Ero più Fissato Con Gucci E le varie cose In questi mesi Invece Che sono Alla ricerca Di cose Un po' Più Ricercate Magari Comunque Vistose Ma però Diciamo che Mi è un po' Venuto a noia Per esempio Gucci Ma avete visto Che sto comprando Meno cose Riguardante questo Brand Anche Balenciaga Tutte queste Che fino All'anno scorso Io Fissatissimo Quest'anno Sono alla ricerca Un po' Di cose Che so Che valgono So che Varranno Anche nel tempo Ma che Non ho mai avuto Che per esempio Si vedono Meno in giro E quindi Sono arrivato Allo studiare Goyard E quindi Studiare Il suo sito Il suo sito Mi ha lasciato Un attimo Perplesso Perché Ci sono tutte le cose Che vendono E che creano Appunto In negozio Ma Assolutissimamente Non ci sono scritti I prezzi Se voi andate A fare una ricerca Su internet I prezzi Veri E aggiornati Delle borse O di qualsiasi Accessorio Sono Pressoché Introvabili Gli unici prezzi Che io ho trovato Sono quelli Per esempio Che le persone Mettono in vendita Cose che hanno Di Goyard E quindi Sono cose Di seconda mano Ma hanno dei prezzi Veramente Assurdi E quindi Io mi ero fatto Un'idea Che I prezzi Delle borse Erano esagerati Anche perché Da moltissimi Questo brand È considerato Al pari Di Hermes Quindi Sapendo Quanto costano Le cose Di Hermes Ho detto Vai Ora vado in negozio Perché voglio Sapere Quanto costano Le cose E chissà Che cifre Sparano Vedendo poi Anche tutti i video Qua su YouTube Di persone Soprattutto Americane Che parlano Delle borse Che comprano E con tutti I vari prezzi Io M'ero aspettato Delle cifre assurde Cifre assurde Che in realtà Non ho trovato Ma lo diremo Poi E Facendo appunto Il giro Nel Nel loro sito In questi mesi In realtà Da un po' Da inizio anno Che sto iniziando A spulciare Però Nell'ultimo mese Mi sono veramente Fissato Ripeto Doveva essere L'avevo pensato Come Autoregalo Di compleanno Quindi a giugno Ma In queste sere Guardando Unboxing Unboxing Tutti stavano parlando Di aumento Dei prezzi A inizio Di questo anno E siccome Io so Che su per giù I prezzi Delle maison Di lusso Aumentano Quasi ogni Sei mesi Quattro mesi Così Non potevo Aspettare Magari Di Prendere La borsa Che sapevo Che volevo E pagarla 200-300 euro In più Ho detto La prendo ora E chissene Ero indeciso Tra Due o tre Borse Una Era una tracolla Normalissima Tipo quelle Che porto sempre Una Era la borsa Mainstream Perché Veramente La stanno comprando Tantissime ragazze In tutto il mondo E soprattutto La stanno facendo vedere E soprattutto È quella che va Di moda adesso E poi C'era Un'altra borsa Che è simile Alla tot bag Che va Molto di moda Però Con rinforzi E tutto quanto Io ho detto Vado in negozio Guardo La disponibilità Le guardo tutte Confronto i prezzi E poi decido Il signore Ha voluto Che fosse disponibile Al momento Solo una Di queste tre Quindi ho detto Questo è un segno Del destino Prendo questa Che è qui Che ora Unboxeremo Raga Però Dovevo farvi Un po' L'escursus Perché appunto So che molti Non conoscono Questa marca E quindi Mi piaceva Insomma Trasmettervi Qualcosa Di nuovo Allora Andiamo Procediamo Con l'unboxing Qui dentro C'è una borsa Io ho scioccato Non tanto Perché me lo aspettavo Dato che avevo già Visto unboxing Unboxing Di questo genere Praticamente Goyard Non ti dà La scatola Ma Ti mette La borsa Qua dentro Qua dentro C'è una borsa In questo sacchetto Stretto e lungo Qua C'ho La fattura E quindi Poi vi farò Vedere Il prezzo Ma Procediamo Con l'acquisto Che vi faccio Vedere E soprattutto Devo dirvi Mentre apriamo Il pacchettino Che ho fatto bene Ad andarci oggi O comunque Questi giorni Perché la commessa Mi ha detto Che la novità Di queste settimane Però è in limited edition Quindi Non ci sarà Per sempre È che ti danno Una dust bag Ok Ok E ho detto Ah perfetto Benissimo Io ho voluto Comprare il modello Saint Louis Ok Che è la tote bag Classica Che c'è di tantissimi Colori Disponibile però In negozio Non c'erano tutti Perché Queste borse Non sono fatte in serie Ma Hanno Qualcosa di Fatto a mano Diciamo che non è Che ne producono tante E questo Aumenta La loro Desiderabilità Insomma Andiamo A vedere Qui C'è Tutto E Avviene fuori È Così Ok Non voglio Spoilerarvi Il colore Andiamolo Ad aprire E Ragazzi Abbiamo La Qua C'è la prima dust bag Che è quella In limited Perché Ti regalano Allo stesso prezzo Questa Questa Mi piace Mi piace È Abbastanza capiente C'è Una tasca qua Una tasca qua Una tasca qua Una tasca qua Bella Io Ah Non avevo mica capito Io pensavo fosse Un'altra dust bag Da viaggio In realtà È Una truce Diciamo così Bella 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 Poi qua Abbiamo Il loro Cartellino Che Ce l'hanno In tutte le borse Fatto così E questa Mi dà un'idea Diciamo Un po' Di cipperia No Perché Non ho mai visto I cartellini Fatti così E poi qua Abbiamo Il fogliettino Appunto Dove c'è scritto Tutto Che c'è scritto Thank you For your interest In a Maison Goya La French Independent Trunkmaker Insomma C'è la storia Diciamo Del brand Carino Quindi Se avete possibilità Approfittatemi Perché Vi regalano Anche questa Trousse Non lo so Come chiamarla E ovviamente C'ha anche La zippina E qua La La cerniera Metti a fuoco La cerniera È È protetta Da un coso Di gomma Quindi Boom È stata Una sorpresa Questa Non è la borsa Che ho comprato Perché Vi ripeto Io pensavo fosse Una dustbag In regalo In realtà È una seconda borsa Ma veniamo a noi La borsa Che ho comprato È qui dentro Questa È la Seconda Dustbag Gona Grossa Ho preso Ripeto La St. Louis Il modello Grande È la grandezza GM Perché c'è PM E GM Quindi GM È quella grande E Ho preso Così Questa Grigia L'ho scelta Grigia Alla fine La cosa Che Mi fa anche Ridere La sapevo Perché L'avevo già visto Mi fa ridere Che Per la prima volta I manici Sono coperti Dalla plastica E questo Mi dà un'idea Di mercato Non so come mai Però Boh Mi mettano così Li togliamo dopo Perché ho in mente Di fare anche Un tic tac E poi La borsa La top bag Una volta Aperta È Così In tela Così In canvas È super leggera I manici Qua E qua È in pelle E poi Al suo interno C'è anche Questa Seconda Pochettina Che Rimane Sempre In uno dei manici Della borsa Però La possiamo Staccare da qua E poi magari Portarla in giro Il fatto È che Si Apre Così E poi Vabbè Non è che C'entri molto Qua Magari Delle carte di credito Magari Dei soldini Non lo so Quanto la userò Questa staccata Vediamo Magari A qualche evento Però Insomma Alla fine O tre borse in una Adoro Poi lo mettiamo qua E qua Appunto C'è Ancora Il suo Cartellino Dovrebbe Questa Essere Double Le fass Quindi Se uno Non lo vuole Così La può Rigirare E diventa Così Questa borsa Ha mega successo Perché In realtà È nata come Una borsa Da mare Ragazzi Questa L'hanno creata Come borsa Da mare Se voi chiedete Spiegazioni O la storia A qualche commessa Ti diranno Questa era nata Come una borsa Una beach Bag Però Ora La usano In moltissimi Anche da Borsa Tutti i giorni È Molto leggera Vedete Io quando vi dicevo Che se uno Non conosce il brand Sembra Può passare come Una borsa Così Un po' cheap È perché Se te la vedi Così Non lo diresti Mai che è Di un brand Di lusso Se non lo conosci E come vi dicevo Il pattern Penso si chiami così È formato Da tanti puntini Che formano La y Y Y E poi ogni tanto C'è una y Formata Dalla scritta Goyard L'ho scelta grigia Anche se In realtà La volevo nera Perché I colori Principali Quelli comuni Sono Nero su nero Cioè Nero Tutto qua E nero e laci E nero sul marrone Cioè Nero qua E marrone I bordi I manici Però Tra i vari colori Tra le varie colorazioni Che sono considerate Tipo Delle novità Ci sono tutti C'era grigio C'è giallo C'è arancione C'è verde C'è blu E Ragazzi In realtà La volevo vedere Anche verde Ma non c'era Disponibile Disponibile C'era gialla C'era Così grigia E c'era Blu Mi sembra Però Quando l'ho vista grigia Ho detto No vabbè La amo Perché Sarà perché Ero vestito così E quindi Avevo la La felpa grigia Sarà perché Io adesso Nella mente Ho Che ho fatto L'armocromia E mi hanno detto Che il grigio È uno dei miei best color Sarà perché Parlando anche con la commessa Io ho quasi esclusivamente Borse nere L'ho scelta così Era un deciso Fra quella grande GM E quella PM Che è quella media Ma quella media Veramente Abbastanza più piccola E su di me Sembrava una borsetta così E mi piace E mi piace Bella 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 Sì Sono super super contento E la vedo anche molto estiva Per viaggi Per esempio Io l'ho pensata Ora Quando andiamo in giro Con Disney Che dobbiamo fare Una giornata fuori Oppure anche due giornate fuori Che mi metto queste robe Anche perché no Quando si va al mare Tutto quanto In piscina Anche perché È una beach bag Ricordiamocelo Anche se la usiamo Tutti i giorni in città È impermeabile Ovviamente Dicono le persone Che l'hanno comprato Che sia Abbastanza Delicata Però comunque Nel tempo Ho voluto prendere Anche questa Sia perché La tracolla Non era disponibile Al momento Ma ci sarà Tanto ci sarà Dio compreanno E sia perché So che questo modello È uno dei più ricercati Uno dei più richiesti In varie colorazioni E che soprattutto Aumenta il prezzo Tantissimo La userò Non lo so Fatto sta che Se non la userò mai Ancora meglio Perché Negli anni Aumentando il prezzo Dicendo che Non l'ho mai usata Posso magari Riprenderci qualcosa Ma veniamo a noi Ragazzi Tutti i prezzi Io Ho Un po' guardato Ok? Perché la mia missione Era sì Andare a comprare Questa Splendida Borsa Che amo La amo Ma anche Controllare Tutti i prezzi Per il futuro Ok? Quindi Quanto l'ho pagata Questa La G-bag Andiamo A Prendere La mia Il mio scontrino La mia Ricevuta Questa Al momento Ad oggi Oggi Che sto registrando È il Non me lo ricordo 12 aprile Questa La Saint Louis Toadbag Di Goyal Grande Costa 1650 euro 1650 euro Differenza di prezzo Con quella media Quella media Costa 1500 euro Non vi preoccupate Perché Non è che ho Scialacquato i soldi Ho usato Una parte Dei soldi Che mi sono ripreso Vendendo Tutte le mie cose Che non uso più Su vestier Quindi Diciamo che Non è che sono andato Così Ho speso soldi Inutilmente E Questo modello È molto paragonato Con la Neverfull Di Louis Vuitton Che costa Praticamente uguale E Quando vi dicevo Che Pensavo Costasse tantissimo In realtà no È perché appunto I rivenditori Su internet Questa borsa La fanno pagare 2002 2006 2005 E quindi Io mi aspettavo Boh Costerà sulle 3000 euro In realtà no La differenza di prezzo Come vi ho già detto È Di 150 euro Tra il modello grande Il modello medio Ma c'è tanta differenza Di grandezza Quindi alla fine Per le mie cose Io ho preferito Quella grande La tracolla Che non era disponibile Però Me la sono fatto Me lo sono fatto dire Costa Al momento 1800 euro Ho visto anche I Come vi dicevo I Collarini per cani Quelle piccolini Costano 530 euro Poi c'è quello medio 570 E poi 590 Mi sembra di ricordare Il portacarte Dovrebbe costare Ancora 350 euro Ma non ne sono sicuro E io spero Che con questa Breve guida Alla lista Prezzi Di Goyard Non dobbiate Andare alla ricerca E impazzire su internet Perché veramente Io non so come mai Ci sia Questo segreto No Però le cose Che ho visto così I prezzi Al giorno d'oggi Sono questi E quindi Mi ci sono tuffato Il prossimo acquisto Molto probabilmente Sarà La tracolla Però ho visto anche Un'altra cosa Altre cose In realtà Che mi piacciono tanto Esperienza In negozio E poi chiudiamo Il negozio È veramente piccolo 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 Non ho potuto Fare molti video Perché Uno mi vergognavo Due C'era solo io Dentro Qui di bo Tre Sapevo che era Praticamente Non si poteva Diciamo così E per non farmi Brontolare La prima volta Ho detto Vabbè Non li facciamo Però Siccome ho visto Che un ragazzo Qua a Milano Facendo un ticket Etocchete Diceva Bellissima esperienza Se non fosse Per le commesse Io Vi dico Dal canto mio Le commesse Sono state Super gentili Tutte E Super alla mano E soprattutto Anche pronte Nello spiegarmi Varie cose Nel rispondere A tutte le mie curiosità E quindi Io ho chiesto Tantissimo Per potervelo Poi ridire E non è che abbiano fatto Delle facce stranite Oppure erano scocciate Anzi Ci mancherebbe altro Hanno fatto molto bene Il loro lavoro Esperienza Da rifare Assolutissimamente Sì La fila Fuori Mero preparato Al peggio Tipo Persone Che dicono Due ore Tre ore Di fila In realtà In dieci minuti Sono entrato Anche se avevo Cinque persone davanti Sarà perché È un giorno Infrasettimanale Però Sì Super bello Super bello Avevo paura Di non riuscire A prenderla Perché mi ero Prefissato appunto Un range E un tetto massimo Di soldi Da spendere Però Sì Mi è piaciuta Mi piace Bella bella Non vedo l'ora Di iniziarla Ad usare Probabilmente So che questo Non è il colore Che va per la maggiore Soprattutto tra le ragazze Però per me È perfetta La amo Bella 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 Mi piace Mi piace Carina Adesso ragazzi Siccome ho parlato Veramente tanto Di una borsa In questo video Fatemi sapere voi Qua sotto Tramite commento Se conoscevate già Goyar Come marchio Di lusso Se vi piace Oppure no Io Come mia Vi dico la verità Vi dico la verità Allora Se non lo conoscevo Aglio Come vi ho già detto Non direi mai Che questa borsa Costa più di 1000 euro Vedremo Quanto resisterà Se si rovinerà Oppure no Però Questo fatto Come per Il Cartier Che vi ho fatto vedere Scorsa settimana Questo fatto Che passa Quasi inosservata Come borsa di lusso In mezzo alla strada In mezzo alle persone Perché in pochi La conoscono E soprattutto Sembra una borsa Per andare a fare la spesa Quella che ti danno La coppa Per esempio Il Carful Mi piace Mi piace E mi fa sentire Un po' più al sicuro Rispetto Sapete che ormai La criminalità In queste città È all'ordine del giorno Quindi vedremo Come sarà L'esperienza Con questa borsa Vedremo alla fine del mese Se sarà Un acquisto top O un acquisto flop Fatemi sapere voi Quindi qua sotto Tramite commento Nel caso in cui Amate Goyal Qual è la vostra Borsa Dei sogni La mia Ve l'ho fatta vedere Scrivetemi quindi Tutto quello che volete Qua sotto Tramite commento Mettete piace a questo video Se vi è stato utile Soprattutto Se vi ha intrattenuto E vi è piaciuto Iscrivete al mio canale Se ancora non l'avete fatto Noi ci vediamo domani Con un altro Ennesimo video E vi devo dire Mi piace Questo fatto Che ogni tanto Facciamo sì Video All Di lusso E shopping E vlog Ma che diventano anche Dei video di informazioni Su magari qualcosa Di nuovo Che non conoscevate Ci vediamo domani Ciao